Matteo, questo è un vino che fanno da noi, noi siamo in città di Rossini, ed è un bianco, lo chiamano il Cigno perché era il soprannome di Rossini. Grazie. Noi riusciamo a parlare agli artigiani, ai piccoli imprenditori in maniera seria? Ma vorrebbero sentire parlare di meno burocrazia per esempio, e sottrae un sacco di tempo e di risorse alle aziende. E' attraverso una semplificazione radicale del sistema burocratico che tu puoi aiutare coloro che vogliono rischiare per creare lavoro. Ho parlato con persone che hanno sempre votato sinistra e mi hanno detto, io stavolta ho votato meloni, ho detto, come cacchio fai a votare meloni? Sei sempre a votare sinistra, come hai fatto a votare meloni? Una parola che non è stata detta stasera e che mi mette ancora più ansia, in quanto mamma è ancora più paura, è ambiente. E' un'angoscia che io ho dai miei figli, che loro quando si parla di questa cosa dicono, non ne parliamo più, perché non ci sono soluzioni, non ci sono risposte. Ci sono, gli crea paura e tensione.